I rumor saranno nell'aria da alcuni giorni, ma ora arriva la certezza. Una buona notizia per tutti coloro che si battono contro la cementificazione del territorio e il consumo del suolo. La provincia ha deciso di assoggettare al via il centro commerciale che dei privati vogliono costruire alle porte di Bassano in territorio cassolese. Poletto esulta. Vuol dire che questa struttura dovrà produrre una valutazione di impatto ambientale. Questa valutazione verrà poi verificata, analizzata, valutata dalla provincia che eventualmente può dare ulteriori indicazioni. La battaglia non può considerarsi ancora vinta, ma il privato almeno dovrà tenersi alle indicazioni che in futuro darà la provincia. Vare fatta la scelta di assoggettare al via è un segnale che dà maggiore tempo e apre le porte perlomeno a limitare l'impatto di questa nuova struttura. Per l'amministrazione bassanese ci sono tante motivazioni per dire no al progetto. Noi avevamo segnalato che sicuramente c'erano i problemi di consumo di suolo in un periodo in cui anche la regione dà indicazione di realizzare strutture commerciali in zone da riqualificare, che sicuramente va ad aggravare moltissimo la viabilità esistente sulla strada 47 che già purtroppo soffre di intensamente durante i fini settimane e i periodi festivi.